La passerella è un sentiero nella neve, a 1800 metri di quota, la scenografia è una foresta di alberi imponenti illuminata da raggi di luce, colonna sonora all'opera, a rendere tutto più magico e suggestivo nella notte di St. Moritz. Radici montane, la linea Grenoble, nata negli anni 50, la più tecnica della famiglia Moncler, conquista la vetta con uno show per 250 ospiti, imbacuccati e avvolti in cape candide. Le cuffie, per immergersi nei suoni senza inquinare la natura. In prima fila Paolo Sorrentino, Anne Hathaway, Kate Moss, Vittoria De Maneskin e in passerella le top Irina, Maria Carla e Vittoria, a interpretare tutte le anime di Grenoble. L'abbigliamento super tecnico da sci, da snowboard, fatto anche di intarsi di maglia e di flanella adatta alle piste, e quella più casual, forme generate anche con l'intelligenza artificiale e progettate per ottenere volumi audaci. La comunicazione ha cambiato il mondo, dobbiamo arrivare a grande pubblico per questo show, è fatto per questi 250 ospiti, ma è fatto anche per comunicare con tutti le nostre community intorno al mondo e il mondo digitale ci dà una mano.